Certe esternazioni fatti da un'icona come può essere Beckenmauer fanno male fanno male perché poi vanno a toccare un'altra icona che si chiama Buffon a cui va il grande riconoscimento non solo da parte dei tifosi giuventini ma credo di tutti i tifosi nazionali perché nel corso di questi anni ha regalato con le sue prestazioni grandi soddisfazioni ed è un uomo speciale in quanto un grande professionista pieno di umanità che è preso d'esempio dei nostri giovani e quindi come tale va rispettato. Gigi ha risposto benissimo con grande equilibrio con grande ironia e poi i pensionati sono persone sagge e quindi al di là delle battute Gigi ha dimostrato e dimostrerà una grande risposta poi il campo che deciderà sempre tutto.